Siamo con Gregorio Esposito, candidato alla Camera nel Lazio 1 di Futuro e Libertà. Gregorio Esposito è un giovane del Metapontino, originario di Ferrandina, ma del Metapontino. Perché scegli di candidarti in Futuro e Libertà? Prima di tutto vi ringrazio per questo invito e rispondo subito alla sua domanda. Ho scelto di candidarmi con Futuro e Libertà perché ho aderito al manifesto di Futuro e Libertà, quello di Bastia Umbra, dove per la prima volta credo nello scenario politico nazionale sia stata data la possibilità ai giovani di poter fare politica partendo dal basso. Come Lucano ci tengo a precisare che non è una scelta di campo il discorso di candidarmi nel Lazio invece che in Basilicata. In realtà ciò che mi muove per il Lazio è un impegno prima di tutto lavorativo perché vivo lì nel Lazio e poi facciamo politica nel Lazio con un gruppo di giovani, con un'espressione che parte dal territorio e soprattutto con tante professionalità che hanno voglia di fare. Di mio oggi mi sento più che come intervistato politico testimone di una territorialità che oggi mi vede protagonista nella lista Lazio 1 per Futuro e Libertà. Certamente c'è molto da fare, il scenario politico nazionale è un po' stato messo in crisi per quanto riguarda sia il fenomeno della crisi dei partiti che per quanto riguarda la partecipazione attiva della società civile. Mai come adesso c'è più bisogno di avvicinarsi alla politica senza sfociare nella retorica perché mai come adesso ci sono così tante possibilità per i giovani. I partiti sono in crisi, i grandi nomi della politica purtroppo difettano di quel requisito di credibilità perché in realtà non promettono o promettono quello che già vent'anni fa hanno iniziato a promettere. E se guardiamo ad oggi, a quelle che sono state le promesse di allora, ci rendiamo conto che il futuro di allora è la crisi di oggi. Quindi l'alternativa e il puntare per un futuro migliore è sicuramente quello di investire sui giovani. Sulla Basilicata però mi permetto di fare un passaggio in più perché la Basilicata deve un attimino iniziare a guardare in modo diverso anche a quello che è l'approccio alla politica nazionale perché deve uscire un po' da quel discorso del feudalesimo. I giovani in questo dovrebbero un attimino dare, dovrebbero darsi un impulso maggiore e spezzare questo meccanismo perché noi abbiamo, e mi riferisco alla Basilicata, una terra bellissima, una terra dove c'è molto da fare ma bisogna uscire fuori da quello schema dove si viene da fuori, si promette qualcosa ma quello che si lascia per il territorio o sul territorio è minore di quello che si prende. Io mi sento di essere oggi testimone di un sistema che deve cambiare, lo stiamo già facendo e la mia candidatura non è l'inizio per un qualcosa ma è già un primo traguardo perché di nostro, io dico sempre, non abbiamo la possibilità di migliorare il mondo ma abbiamo quel potere di migliorare il nostro angolo di mondo.